eccoci qua a questo nuovo video avon questi sono le novità di campagna 7 cioè quello che uscirà in campagna 7 questa è una nuova tinta labbra a specchio io non ho ancora provata però ordinato la tonalità coral che poi vi faccio vedere qual è questo è solo per le consulenti avon non è per i clienti quindi i prezzi sono diversi ecco le tinte labbra lo red eccolo a effetto specchio la nuovissima tendenza labbra effetto specchio nel nostro gloss d'alta lucentezza però super idratante però una tinta labbra quindi un gloss ma una tinta labbra i pigmenti di altezza per labbra specchio nuovi nutrienti per idratare prendersi cura delle labbra è super lucido e non appiccica labbra bagnate senza appiccicare effetto gel impeccabile e non va di sicuro non deve mancare ci sono le cinque tonalità questo è questo è questo è questo è questo che ho preso rosso vedete eccolo qua andiamo avanti con le novità queste sono le novità invito alla prova sette di campioncini questo è il profumo per idratare la pelle per idratarla al 100% eccoci eccoci questo è per idratare la pelle come si usa due volte al giorno massaggio delicatamente poche gocce due o tre gocce sul viso e collo e poi metti la crema un burro di carité e questo è la crema idrata e proteggi buonanotte con avon care perché sappiamo che la lavanda rilassa moltissimo ecco prima l'intimo dovrebbe questo far away sì tutti far away i set che questo è un bellissimo set per i capelli rigenerati e andiamo avanti con i campioncini eccoci nuova linea mission mission Y e mission Eclat mission Y per idratare mission Eclat per rendere più luminosa la pelle dai ecco comunque tona tuona lampi fulmini e saetti eccoci qua si è finito anche questo tutti i sapi però non convengono perché fanno pagare campioncini tagli e misurare e qui è finito con i cataloghi che acquista 20 euro 50 euro che talog è 20 euro non 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 non